Sai, Ovetto, Zeg ti ha fatto una copertina, bella morbida e calda! Bubu, salta te! Zeg ti ha visto! Bubu, salta te! Zeg ti ha visto! Beh, io ecco, non penso che quella sia la tua palla, Crasher, ha più la forma di... di un uovo! Quando arriva il tuo amico, Jet? Agente a rapporto! I poliziotti sono sempre pronti a dare aiuto e sicurezza! Tutti parlano del nostro spettacolo! Ci sarà la sala piena stasera! Già, ormai nulla può andare storto! L'importante è che segui il percorso, resti sulla carreggiata e non prendi una... Sì, però con gli indiani! Sembra proprio un piccolo orso polari. È vestito in modo un po' strano, però. Andiamo a dare un'occhiata. Ma quando, professore? Lei quando pensa che arriverà? Di domenica! È un principe che non rimuove... Dovrò fare, Tata? Dovrò scegliere la più grossa!